Ciao a tutti, scusate se sono in una posizione un po' strana, volevo cogliere questi due minuti che ho prima di scendere perché sto per uscire, per farvi gli auguri di buon Natale, di buone feste, buona vigilia, anzi oggi. Ci teremo a caricarlo oggi o comunque domani, quindi auguro a tutti buone feste, buon Natale, poi ovviamente prima di Capodanno ci vediamo sicuramente. Un casino, scusatemi se non ho caricato nulla per Natale, ma il tempo non c'è stato, ho registrato tutorial e li monterò e poi li caricherò magari per il Capodanno, comunque queste giornate sempre natalizie. Quindi vi auguro un buon Natale, buone feste, trascorreteli con appunto chiamate e un grande bacio, ciao e tanti auguri!